La Torre di Manfri è al settimo posto tra i dieci siti siciliani più votati. Il capodelegazione Fai, Fondambiente Italiano di Caltanissetta, Giulia Carciotto, esprime la propria soddisfazione per l'esito del censimento, i luoghi del cuore. Il sito infatti ha ottenuto 4.447 voti. Sono numerosi però i luoghi in giro per la provincia che negli anni sono riusciti a rientrare nell'elenco. Dalla Cappella di San Marco a Sutera, al Castello Manfredonico di Mussomeli, o ancora il villaggio Monte degli Olivi e Riesi, le mura Timoleontea, Gela e per Caltanissetta il Castello di Pietrarossa, la Biblioteca Scarabelli e la Bazzia di Santo Spirito. Promuoviamo forme di relazione con l'ambiente e con i luoghi tenendo conto dei bisogni, dell'aspirazione e delle opportunità della comunità, afferma Giulia Carciotto, capodelegazione Fai Caltanissetta. In questi anni ci siamo concentrati su attività di conoscenza e di valorizzazione, tessendo reti viettuose con istituzioni culturali e territoriali, al fine di avere una fruizione e un'esperienza costruite sulla reale conoscenza del territorio. Nel comunicato della delegazione di Caltanissetta viene ricordato anche il comitato Viviamo Manfria, motore e promotore della raccolta firme, un pensiero a Giovanni Cacioppo, testimoni al d'eccezione, ricordato anche l'impegno dei volontari, dei giovani e della delegazione del Fai e le amministrazioni comunali della provincia e in particolare i sindaci dei comuni di Caltanissetta, Mussomeli e Gela.